Il Tacchino Lacanzanese tra gusto, cultura, tradizione e futuro al centro della tre giorni promossa dalla Proloco, comune di Canzano e Gala Leader Terramano, in programma dal 6 all'8 dicembre con Tacchino d'inverno. Il Canzano c'è anche d'inverno, oltre a delle manifestazioni fatte durante l'estate grazie anche all'aiuto della Proloco, agli enti e agli organizzatori si sono organizzati dei convegni sul nostro prodotto tipico, il Tacchino Lacanzanese e altri mercatini e quant'altro possa portare turismo a Canzano. Canzano è un piccolo borgo, un piccolo borgo con tante realtà vive e forti quindi noi, io come sindaco e noi come amministrazione ci puntiamo molto puntiamo molto al turismo e puntiamo molto a valorizzare quello che di bello c'è nel nostro territorio. Un evento che si aprirà il 6 dicembre alle ore 10 con il convegno denominato Tacchino Lacanzanese, gusto, cultura, tradizione, futuro. Un convegno a cui parteciperanno anche dei professori universitari, degli allevatori per illustrare il Tacchino in tutte le sue forme, quindi dalla produzione al consumo e anche ai valori nutrizionali. Il convegno è stato organizzato quindi dalla Proloco con tre organizzatori, il professor Pier Santi e i dottori De Martinis, Angela Andrea e Biaggio. Un evento che rientra nel circuito Gal, Saperi e Tradizioni dell'Appennino Terramano. È una delle ultime manifestazioni che sosteniamo, che faceva parte di un circuito delle eccellenze dell'Appennino Terramano e ritengo che il Tacchino Lacanzanese sia un simbolo della nostra provincia e potrebbe diventare anche un'occasione per creare posti di lavoro. Su questo aspetto ritengo che bisogna ancora lavorare molto e speriamo di riuscire a creare le sinergie giuste per raggiungere questo obiettivo ambizioso.